amiche amici della realty manager tv benvenuti in un nuovo video sul nostro canale vi ringrazio intanto per tutto il seguito che ci date continuate iscrivervi attivate la campanellina per non perderti le notifiche e soprattutto lasciate un mi piace ai nostri video e anche a questo video di oggi in cui andremo a approfondire sempre per tutta la parte riguardante gli investimenti manageriali di inizio stagione che i nostri utenti possono fare nel loro gioco la priorità di acquisto i giocatori speciali priorità di acquisto che sicuramente in altri tutorial avete sentito citata durante il mercato e quant'altro è un vero e proprio investimento che non è a fondo perduto ovviamente perché si investono dei soldi per poter potenziare la propria squadra e comunque per poter attirare nuovi calciatori con un valore overall molto più alto della fascia media in cui noi giochiamo che ricordiamo dalla composizione rosa e da overall 67 overall 80 e soprattutto giocatori che poi comunque sul mercato diventano appetibili allora andiamo sul nostro regolamento leggiamo velocemente la citazione iniziale che vi lasciamo la priorità di acquisto i giocatori speciali è un ulteriore possibilità date agli utenti per investire le proprie finanze tale investimento permetterà al manager poter acquistare un top player nella prima finestra di mercato utile quindi successiva all'investimento come ogni investimento manageriale fatto andrà in atto nel mercato successivo durante la fase di asta busta chiusa cosa vuol dire quindi che l'investimento prevede l'acquisto di una priorità di un chiamiamolo ticket per facilitare un po la lettura della della priorità ogni priorità ha un valore di overall differente quindi 81 82 83 84 85 e 86 che sono gli overall attualmente presenti sul database di football ogni ovviamente acquisto di una priorità ha un costo differente in base alla forza dei giocatori quindi qualora io nelle mie finanze sia in possesso di una cifra che giri fra gli 80 e i 170 40 milioni potrò anche scegliere di fare questo acquisto cosa succede quindi una volta acquistata la priorità al mercato successivo quindi al girone di andata alla settima alla settima o alla decima giornata di campionato non la giornata di campionato si aprirà la settimana di mercato all'interno del quale ci sarà una busta chiusa prioritaria solamente per i player che hanno fatto questo investimento e possono partecipare ovviamente solo loro i giocatori da vg 81 in su possono militare in una squadra per massimo due stagioni dunque questa è una cosa molto importante una regola fissa il giocatore chiamiamolo speciale acquistato tramite questo investimento o comunque acquistato anche in altri modi che adesso andremo a vedere potrà militare all'interno di una società sportiva solamente per due stagioni due stagioni consecutive ovviamente cosa succede quindi se un manager nel caso non riuscisse a vendere lo scambiarlo al termine delle due stagioni o verso il termine delle sue stagioni sarà tenuto sarà obbligato alla conclusione della seconda stagione in cui ha avuto l'uso frutto di questo calciatore a svincolarlo e recupererà la metà del suo valore tm attenzione ulteriori paletti chiamiamoli così per descrivere questo investimento questo giocatore all'interno di ogni rosa sarà possibile avere solo un tot numero di giocatori speciali vediamo nello specifico i giocatori speciali noi lo dividiamo in zone di campo e ruoli zona gialla blu verde e rossa la zona gialla indica il ruolo del portiere la zona blu il ruolo di difesa quindi difensori centrali e terzini la zona verde è la zona del centrocampo mediani centrocampisti centrali laterali di sinistra laterali destra centrocampisti ovviamente e trequartista mentre la zona rossa è la zona di attacco quindi esterni sinistri esterni destra seconde punte e punte questa è una cosa importante ogni per potrà avere un massimo di tre giocatori speciali nella propria rosa e non possono essere più di uno per zona di campo cosa vuol dire se io ho acquistato una priorità vd 81 al costo di 80 fantamilioni sono andato alle successive buste della sessione seguente di mercato ad acquistare un giocatore con ovvero l'ottantuno quindi dalla metà della stagione mi entra in società in rosa sarà magari della zona verde perché magari ho scelto un centrocampista centrale qualora nella stagione successiva voglio nuovamente investire in un nuovo ovvero l'ottantuno e acquistare mi devo assicurare che non sia della stessa zona del mio attuale giocatori perché potrà avere sempre massimo un giocatore speciale per ogni zona di campo ogni player quindi potrà scegliere tre zone su quattro disposizione per inserire il giocatore speciale e non potrà avere ad esempio due mediane speciali piuttosto che due punte ulteriore specifica durante la fase di investimento manageriale il manager dopo aver comunicato sul postele che ha dedicato la propria scelta dovrà attendere il mercato successivo e questo l'abbiamo ampiamente detto cosa succede il momento che arriva il mercato si aprirà questa busta chiusa che vi ho citato prima all'interno del quale parteciperanno solamente perché hanno acquistato la priorità si dovrà fare un'offerta in busta chiusa quindi partendo sempre dal valore transfer market che ricordiamo è la base di tutti i nostri le nostre trattative di mercato quindi un'offerta minimo valore transfer market del giocatore desiderato compresa nella fascia vg acquistata benissimo attenzione cosa succede se durante la fase di asta busta chiusa due player avessero scelto lo stesso giocatore perché magari hanno lo stesso tipo di overall e vogliono comprare tutti e due lo stesso giocatore ad esempio vg 82 overall 82 in questo caso che è un caso che può succedere solo uno dei due giocatori si aggiudicherà il giocatore top player perché come da tutte le regole della busta chiusa vi rimando al tutorial del calciomercato l'offerta più alta vince l'altro manager rimarrà quindi a bocca asciutta e soprattutto questo sottolineiamolo perderà la priorità di acquisto con cui ha partecipato alla busta la politica da questo proprio investimento può andare bene e può andare male come ogni investimento che viene fatto all'interno di loyalty questo è la casistica l'unica casistica che prevede la perdita della priorità specifichiamo il tre modo che non è possibile trattare la priorità di acquisto quindi io se acquisto una priorità non è che posso rivenderla all'altro player a un altro player e far partecipare lui alla busta chiusa la priorità d'acquisto una volta presa quando si fanno gli investimenti manageriali e personale e se voglio utilizzarla devo utilizzare ultima specifica della priorità d'acquisto è che è possibile conservarla questo perché perché può succedere che durante gli investimenti manageriali decido di investire su una priorità e spendo 120 fantomilioni per un numero 83 alla successiva per motivi diversi sessione di mercato non ho abbastanza denaro sufficiente per comprare il giocatore desiderato a quel punto non si perde assolutamente la priorità anzi resta all'interno delle strutture della squadra senza una scadenza il giocatore che ne è in possesso potrà usufruirne quando lo riterrà più opportuno o comunque quando le finanze glielo consentirà bene signori questa è la l'investimento manageriale delle priorità d'acquisto giocatori speciali un investimento importante non a fondo perduto che prevede anche l'ingresso in rosa di giocatori che vanno on top alla nostra fascia di gioco quindi l'acquisto per un giocatore chiamiamo top player è previsto solo tramite questo investimento cosa succede e andiamo a concludere il video odierno quando entra un giocatore nel nel torneo perché un player l'ha comprato un giocatore speciale può essere anche acquistato da altri giocatori quindi se io sono in possesso di un giocatore speciale vg 82 ad esempio posso decidere di trattarlo scambiarlo venderlo secondo le regolamento e la tabella che abbiamo visto anche nel tutorial del calciomercato tranquillamente con chiunque questo per specificare che non è obbligatorio arrivare ad un giocatore speciale tramite esclusivamente l'acquisto di priorità se lo fanno altri player io potrò anche andare a trattare i loro giocatori semplicemente seguendo le regole del calciomercato ringraziatevi per aver seguito questo video oggi abbiamo visto i giocatori speciali in l'orealty manager cosa sono e come si come vengono acquistati e tutte le casistiche del caso vi rinnovo l'invito a lasciare un mi piace al nostro video vi invito a iscrivervi al canale attivate la campagna per tutte le notifiche e ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti da Alessandro ciao